Benvenuti al DG della Sera di Nettuno TV e Radio Nettuno, benvenuto a chi ci sta seguendo con il nostro streaming www.nettunotv.tv Partiamo subito dal tema del meteo perché c'è una nuova allerta da parte della protezione civile, però questa volta per temporali forti nella giornata di domani. L'allerta parte dalla mezzanotte di oggi, si conclude le 24 di domani e prevede temporali forti sulla pianura, fascia collinare e rilievi occidentali. I fenomeni sono previsti ad iniziare dal mattino sul settore occidentale per poi spostarsi velocemente verso est, raggiungendo la costa nel pomeriggio sera ed infine esaurirsi in serata. Si aggiunge sulla pianura e la costa romagnola una criticità per disagio bioclimatico debole, la tendenza poi all'esaurimento di questo fenomeno nelle 48 ore successive. Però questa sarà una parentesi perché tornerà comunque il caldo e nei giorni scorsi comunque c'è stato un aumento degli accessi al pronto soccorso e dei ricoveri all'ospedale maggiore di oltre 75 anni. Rispettivamente sono aumentati del 9 e del 12% rispetto allo stesso periodo del 2016. Poi gli effetti dell'ondata di calore si potranno vedere anche nei prossimi 10 giorni, quindi poi sono dati comunque da riaggiornare. A fronte di questa siccità che ha colpito in questi giorni la nostra Emilia Romagna, il Presidente della Regione Stefano Bonaccini ha fatto il punto. Di fronte a un'emergenza idrica così drammatica che ha colpito l'Italia ma anche e in particolare le province di Parma e Piacenza non siamo stati con le mani in mano. Abbiamo immediatamente chiesto al Governo di attivare lo stato di emergenza. Dopo pochi giorni lo stato di emergenza ci è stato concesso insieme all'arrivo di quasi 9 milioni di euro interamente destinati a quei territori. Così come tutti i 4 milioni di metri cubi della diga del Brugneto rilasciati per il territorio piacentino verranno completamente utilizzati, abbiamo deciso, per l'utilizzo in agricoltura e per gli agricoltori. Infine staremo vicino alle popolazioni, ci stiamo già vicini, stiamo continuando e proseguiremo anche mediante autobotti laddove sia necessario, la consegna dell'acqua a quei comuni che ne abbiano bisogno. Infine attiveremo la ricerca di nuovi pozzi perché l'acqua anche in profondità possa essere utilizzata e recuperata. Credo che non servisse altro per rimarcare come, l'abbiamo fatto al G7 Ambiente, servano davvero nuove azioni per combattere i cambiamenti climatici che stanno creando enormi problemi all'intero pianeta e ovviamente anche al nostro continente, al nostro paese. Per questo sciagurata la decisione di Trump di rompere e uscire dagli accordi di Parigi, noi invece insisteremo e bene ha fatto il ministro Galletti e il governo italiano a dire che la riduzione di gas clima alteranti in atmosfera è un'emergenza e come tale va affrontata. Ancora truffe i danni di anziani. Un finto tecnico dell'acqua, descritto come un italiano, si 45 anni con il pizzetto, ha raggirato un'anziana e l'ha derubata di gioielli per alcune migliaia di euro. È successo ieri mattina entro a Saragozza la pensionata, 79 anni, quando si è accorta di essere stata truffata, ha chiamato la polizia. L'uomo si è presentato alla porta e ha detto alla donna che stava facendo controlli nei rubinetti e nelle tubature del condominio perché si erano registrate perdite di mercurio. Aveva con sé un apparecchio per il controllo e ha raccontato all'anziana che per evitare interferenze era necessario che mettesse tutti gli oggetti in oro che aveva in tasca in casa sul letto. Approfittando di un attimo di distrazione è riuscito a prenderli senza farsi notare. Quindi la donna si è accorta di questa truffa. Un incendio c'è stato in A14, tanto fumo anche vicino all'aeroporto con traffico, code e disagi per la circolazione. L'incendio è divampato all'altezza dello svincolo con la bretella che da Borgo Panigale conduce in A1 direzione Milano. Molto fumo si è elevato dal tratto urbano dell'autostrada fino a lambire il vicino aeroporto. Disagili alla circolazione, tra restringimenti di carreggiata per permettere le operazioni di spegnimento e rallentamenti dovuti alla curiosità degli automobilisti. Ancora sconosciute le cause dell'incendio, ma sicuramente le fiamme sono state favorite nel loro propagarsi dalle sterpaglie, rese molto secche dal caldo di questi giorni. Ancora cronaca, incidente a Loiano, una moto guidata da un uomo di 44 anni è uscita di strada. Stava percorrendo stamane la futa quando all'altezza di Sabioni, vicino a Loiano, è appunto uscita di strada e il conducente è stato sbalzato a terra. Così un 44enne è stato ricoverato d'urgenza in illeambulanza all'ospedale maggiore. Dopo i primi accertamenti le sue condizioni sarebbero meno preoccupanti del previsto ancora ad accertare le cause che hanno portato alla perdita di controllo del mezzo anche se non è da escludere una manovra azzardata. Voltiamo decisamente pagina, andiamo a parlare dei minori non accompagnati che si trovano nella nostra regione, soprattutto figli di migranti. Molti di loro hanno perso la vita nel tentativo di arrivare nel nostro paese e sono sopravvissuti i figli. Sono 1.200 questi minori che sono nel nostro territorio hanno bisogno di assistenza. A fare il quadro dentro il quale rientra anche una percentuale alta in realtà di albanesi che vengono rimpatriati, si guardano bene le storie, insomma poi si procede secondo il meglio di ciascuno. Comunque a fare il quadro di questo è la garante per i diritti dell'infanzia e l'adolescenza per l'Emilia Romagna, Cleta e Maria Garavini. Sono circa 1.200 i minori non accompagnati che si trovano sul nostro territorio, sui 15.000 circa a livello nazionale. Questi minori, la maggioranza sono dei ragazzini di 16-17 anni. Ci sono anche ragazzini di 15 anni e anche bambini 0-6 anni. In Emilia Romagna ce n'è uno, 0-6 anni. A livello nazionale sono 44 i bambini che ovviamente sono figli delle mamme e dei papà che sono morti in mare e quindi hanno ritrovato subito un'accoglienza. Noi stiamo facendo un lavoro molto forte di coinvolgimento della comunità perché l'ultima legge Zampa che è stata emanata recentemente valorizza molto la figura del tutore, del tutore volontario e degli affidi familiari. In questo momento noi stiamo lavorando proprio per la formazione dei tutori volontari. Spieghiamo in cosa consiste questa figura, i tutori volontari. Il tutore volontario è una figura di una persona che si prende cura dei ragazzini e si prende cura con un impegno innanzitutto affettivo-relazionale offrendo una relazione affettiva. Può assumere, anzi il tutore volontario dovrebbe assumere anche la tutela legale del ragazzino però si possono studiare anche delle altre forme in cui la tutela legale rimane all'ente locale, ai servizi sociali, il ragazzino può rimanere in comunità. E a fronte di questa situazione si cercano anche nuove forme per aiutare questi ragazzi anche proponendo alle famiglie di dedicare anche solo un po' di tempo a fare il quadro di quello che si può fare la responsabile del centro famiglia ASP di Bologna, Chiara Labanti. Bologna a braccia aperte è stata una campagna che è stata promossa dalla regione Emilia-Romagna fin dallo scorso anno, poi ogni città dell'Emilia-Romagna l'ha adattata alla propria realtà. Noi di Bologna abbiamo cominciato con un flash mob in Piazza Santo Stefano a fine 2016 e poi abbiamo fatto diverse iniziative. Queste iniziative abbiamo pensato di farle non da soli ma insieme a delle associazioni. Con queste associazioni abbiamo fatto un grosso lavoro di ripensare quali possono essere le parole che non mettono paura alle persone per dare una piccola disponibilità perché noi cerchiamo veramente queste disponibilità anche piccolissime in termini di tempo per dei bambini e delle loro famiglie che fanno fatica a gestire la quotidianità. Queste piccole disponibilità di tempo a cosa servono? Queste piccole disponibilità di tempo vanno da un accompagnamento ad attività sportive oppure nel fine settimana, oppure fare anche dei compiti. Per i ragazzini, i minori stranieri non accompagnati può essere un avvicinamento proprio per riuscire con la vicinanza a facilitare l'inserimento nella città di Bologna quindi andare a un cinema, a una mostra. Da questo può essere anche invece che una famiglia si rende disponibile per l'affido vero e proprio e l'affido è invece con la permanenza del minore in casa propria. E proprio questa sera si tiene la veglia di preghiera Morire di Speranza in la chiesa di San Martino promossa da Caritas Diocesano, Ufficio Diocesano Migrantes e Comunità di Sant'Egidio. Una veglia promossa da queste realtà è preseduta dall'Arcivescovo Monsignor Matteo Maria Zuppi a spiegare le ragioni di questo appuntamento lo stesso Arcivescovo che questa mattina ha anche visitato lo stabilimento di Granarolo che faceva un open day in occasione dei 60 anni di fondazione. Andiamo a sentire. Una mezza magia di capacità di produzione, di qualità, di controllo, di controllo di tutto fin dall'inizio, quindi unisce queste due dimensioni che sono fondamentali e quindi dal piccolo al grande mi sembra che sia un'indicazione oltre che una realtà un'indicazione di metro, di sapersi unire perché dal piccolo produttore possa arrivare a una grande distribuzione. C'è anche una caratteristica di Granarolo che fa progetti di sviluppo in paesi in difficoltà. È una bella testimonianza della responsabilità di impresa. E' uno dei motivi di questo legame che cambiamo perché loro sono presenti in Tanzania e da quando ci sono loro è cambiata la vita perché un bicchiere di latte cambia la vita. Quelle cose che ci dicevano i nostri nonni, devi bere il latte, il latte cambia la vita, al senso che ti garantisce la salute o perlomeno permette una salute che altrimenti non avresti. credo che vogliono aprire anche in Mozambico, insomma mi sembra anche questo un altro pezzo importante. Cioè l'Africa non è da dimenticare, c'è un legame profondissimo. Credo che è uno dei modi per aiutare, per impedire che tanta sofferenza di quelli che per trovare il futuro debbano scappare. Se glielo portiamo lì resteranno lì. Questa sera la veglia morire di speranza? Perché è un controsenso morire di speranza. È un controsenso e uno smette di morire di speranza se la speranza è più vicina, se appunto trovo speranza e non debbo morire di speranza. È una responsabilità, soltanto quest'anno sono morte più di 2.000 persone, fino adesso in mare quest'anno 2.000 persone, è un paese interro che scompare e questo ci interroga. Non dobbiamo, è un modo anche per non farci vincere dalla paura e per ricordarci che sono persone e che sono per i cristiani i fedeli più piccoli di Gesù. Rimaniamo sull'Open Day di Granarolo, sentiamo le parole del Presidente di Granarolo, Gian Piero Calzolari. 60 anni sono un traguardo importante, sono un'età considerevole anche per un'azienda, un'azienda cooperativa. 60 anni fa un piccolo gruppo di allevatore, di mezzadri, di coltivatori di retti decise di iniziare questa avventura proprio in queste terre, siamo a pochi chilometri dalla prima sede e oggi siamo molto cambiati ovviamente come succede anche nella vita di ognuno di noi quindi da realtà locale, realtà emiliana, poi nazionale, oggi siamo una piccola multinazionale però molto legati ai valori originali che è la terra, le persone, il rispetto del lavoro sia che sia l'allevatore, sia che sia il collaboratore, il dipendente e il grande rispetto del consumatore. Quindi l'idea di fare la festa del latte per festeggiare i 60 anni è proprio mettere insieme le persone qui oggi è una festa degli allevatori, dei nostri lavoratori che vedete che vi hanno accolto così in modo festoso delle famiglie dei consumatori, avete visto tanti bambini, tante famiglie, giovani, anziani, coppie che esprime questo legame fortissimo dell'azienda con il territorio. Un passaggio anche sull'impegno per lo sviluppo dei paesi che sono in difficoltà, anche questo vi contraddistingue? Sì, noi sappiamo fare una cosa, sappiamo produrre latte, sappiamo conservarlo, sappiamo trasformarlo e quando ci occupiamo di responsabilità sociale cerchiamo di replicare questa formula. Abbiamo recentemente concluso un'esperienza che è stata anche riconosciuta all'Expo come il primo riconoscimento dei progetti per l'Africa. Avete sentito la collaborazione tra Granarolo e Cefala, ONLUS fondata dalla senatore Bersani, che da 45 anni promuove l'agricoltura sostenibile nei paesi del sud del mondo. Tra l'altro è attivo un progetto di servizio civile, ci spiega i particolari Marco Benassi, intervistato da Elisa Orlandi. Sono dieci progetti, uno qua a Bologna che prevede di selezionare tre persone, più nove progetti fra America Latina, Ecuador e Guatemala, il bacino del Mediterraneo, Tunisia e Marocco e Mozambico, Tanzania e Kenya. Sono progetti che solitamente si inseriscono in iniziative che già facciamo, quindi là dove sono agricoli cerchiamo delle figure che fanno animazione rurale, là dove sono invece, come nel bacino del Mediterraneo, più sociali, attenzione alle facce più disagiate, donne e bambini, soprattutto degli animatori di comunità, eccetera. Comunque è una bella esperienza che noi offriamo, che offre poi l'Ufficio Nazionale del Servizio Civile, nel quale poi noi dentro abbiamo alcuni progetti come tante altre organizzazioni, che si configura anche come un'esperienza di lavoro, quindi aiuta le ragazze e i ragazzi anche a approcciarsi a un sistema che domani li vedrà poi impegnati, qual è poi l'ambiente di lavoro. Non è la prima volta che portate avanti un progetto di servizio civile, come sono andate le passate esperienze? Ci sono delle situazioni che hanno avuto le proprie criticità, anche perché le persone partono, si trovano in contesti completamente diversi, con quindi anche delle difficoltà di tipo relazionale umano, ma direi che nella quasi totale generalità sono state delle belle esperienze, questo anche perché noi nei paesi non lasciamo le persone da sole, ma solitamente vengono inserite là dove abbiamo dei progetti, quindi abbiamo dei nostri espatriati che fanno da riferimento e da tutor dei ragazzi e delle ragazze. E tra le persone amiche del CEFA c'è anche Patrizio Roversi, conduttore di Ligna Verde, che è stato in Tanzania a vedere di persona le opere che sono state realizzate grazie a questa Onluz. L'intervista sentiamo di Elisa Orlandi. Per portare degli aiuti tu non li puoi portare nel nulla. Tu hai bisogno che ci sia una struttura sociale, una consapevolezza, che ci sia, perché no, almeno un po' di democrazia. La Tanzania da questo punto di vista è una nazione avanti, per esempio hanno trovato un equilibrio tra religioni diverse, etatine diverse e quindi questi aiuti, questi stimoli vengono metabolizzati in maniera democratica, distribuiti, ben gestiti e questo è fondamentale. Io facendo il turista ho visto ONG che portavano aiuti, che ne so, agli indios in Ecuador ed erano organizzatissimi socialmente e quindi andava tutto bene. Poi ho visto altre ONG portare invece aiuti, che ne so, agli Zulu del Sudafrica, che hanno una struttura ancora tribal medievale, dove comanda il re con la pelle di leopardo. E lì gli aiuti non hanno avuto nessun esito positivo perché se li sono presi quattro profittatori, diciamolo. Ecco che allora è molto importante dove porti gli aiuti e a chi. In Tanzania, io ho visto dei tanzaniani, ma è una meraviglia, c'è gente che poi il CEFA li ha portati a studiare anche qui in Italia e quindi tecnicamente preparatissimi. Il progetto sempre del CEFA prevede un inizio in cui dai un aiuto, ma dopo tutto viene messo nelle mani dei locali. Devo dire da testimone che il CEFA c'è e fa, e non è solo uno slogan. Nell'ambito delle iniziative per la giornata mondiale del rifugiato si è parlato anche del conflitto sulla Siria. Lo sei fatto all'Antoniano, era presente oltre all'Arcivesco, Monsignor Matteo Zuppi, anche il vaticanista Riccardo Cristiano. Sentiamo l'intervista di Elisa Orlandi. Parlare di Siria nella giornata mondiale del rifugiato che cosa vuol dire? Vuol dire innanzitutto ricordarsi che la tragedia siriana è una tragedia che ha portato fuori dai confini di quel paese circa il 30% della popolazione e che ha reso profugo interno o esterno il 50% della popolazione nazionale. Sono cifre abnormi che hanno fatto del Libano un paese dove ci sono 3 milioni di libanesi e 2 milioni di profughi siriani. Ecco, io credo che questo dato ci fa capire l'enormità della sfida che pone al Medio Oriente e a tutti i paesi del bacino del Mediterraneo una tragedia che non può che avere conseguenze disumanizzanti per tutti i popoli coinvolti in uno scenario che va avanti da sei anni. Il nostro paese nei confronti dei rifugiati come si sta comportando? A me sembra che ci sia una grande disponibilità da parte di enti, istituzioni, individui. è una impreparazione a fronteggiare questa situazione da parte della collettività che non ha avuto il modo di adeguarsi a una situazione di emergenza che si protrae ormai da tempo. Come ci stiamo comportando? Ci sono dei provvedimenti legislativi che a me non sembrano adeguati, ci sono dei comportamenti individuali che sono sicuramente encomiabili e però noi abbiamo un tasso di giovani non accompagnati, di minori non accompagnati impressionante che richiede con urgenza un intervento delle istituzioni. In forte crescita il turismo religioso e così ci si attiva per creare sempre più sussidi a sostegno dei turisti che desiderano fare questo tipo di escursioni. La nostra Elisa Orlandi ha chiesto qualche consiglio a Don Tiziano Zoli che è incaricato il regionale per la pastorale dello sport, turismo e tempo libero. Quali sono i percorsi che consiglia qui in Emilia Romagna? Devo stare attento perché rischio di farmi dei nemici a consigliarne uno o consigliarne un altro. A parte i due storici principali che sono la Francigena e la Romea, io invito tutti ad andare a cercare su www.emiliaromagnaturismo.it che è il sito dell'APT Servizi la cartina che abbiamo realizzato insieme attraverso la convenzione che è in essere e lì ci si può sbizzarrire perché troviamo persone che andando su internet sono venuti pure dall'Australia a fare pezzi del nostro territorio, del nostro cammino. Come diceva è nata proprio una convenzione tra la regione Emilia Romagna e voi? Sì, nel senso che abbiamo cercato di mettere insieme le nostre esperienze, le nostre capacità, diciamo così, quelle che abbiamo, le nostre ricchezze, ma siamo anche consapevoli che queste cose possono essere fatte solo nel dialogo con le istituzioni pubbliche. E allora è nato questo accordo, questo tavolo di lavoro permanente fra la regione e la conferenza episcopale regionale per coordinare un pochettino e per analizzare anche le difficoltà e le criticità che ci possono essere. È una bella sfida, vuol dire che abbiamo ancora tanto lavoro davanti. Ed ora il concerto di Vasco Rossi. Trenitalia invita ad affrettarsi nell'acquisto del biglietto per chi intende viaggiare in treno a Modena l'1 luglio per il grande concerto di Vasco Rossi perché i convogli messi a disposizione, già potenziati, vanno comunque verso il tutto esaurito. Sono ora 22 le corse regionali straordinarie, 7 in più rispetto alle 15 inizialmente previste, organizzate per il deflusso notturno dopo il concerto, cioè da mezzanotte e mezza alle 5 e tre quarti del 2 luglio. Per il ritorno a casa dopo il concerto sono inoltre prevedibili, attese anche lunghe, per accedere in sicurezza alla stazione di Modena dove l'ingresso sarà consentito solo se già in possesso di biglietto ferroviario. Cambiamo argomento, nel ristorante adesso pasta e presso i punti vendita i freschi, si può gustare la mozzarella di bufala prodotta nel caseificio della casa circondariale della Dozza. Si tratta di un progetto di aiuto per gli ospiti della casa circondariale per aiutarne il rinserimento una volta terminato lo sconto della pena. Gli unici a commercializzare i prodotti sono dunque i freschi. Sentiamo l'intervista di Elena Realti realizzata dalla nostra Eleonora Monari. Noi siamo sia i distributori della mozzarella di latte di bufala che viene distribuita in tutta Bologna, stiamo cercando di espanderci, speriamo insomma, anche in Italia, e i proprietari del logo che è la Dozza. Ho cercato di rappresentare San Luca che è qualcosa che mi ricordasse la nostra città che è Bologna. Noi distribuiamo appunto la mozzarella di latte di bufala della Dozza, stiamo cercando di farla conoscere il più possibile. È una mozzarella prodotta con latte che proviene dal nord Italia, all'interno del carcere della Dozza, nel quale sono coinvolti per ora quattro detenuti, speriamo che il numero si possa ampliare. E speriamo che questo sia, diciamo, un riconoscimento sia a livello enogastronomico, perché comunque la mozzarella di bufala è uno dei prodotti tipici del nostro paese, che a livello di impatto etico-sociale, perché speriamo che venga, diciamo, veicolato il messaggio che questi detenuti possano reintegrarsi all'interno della società imparando un mestiere, che è quello del casaro. Il progetto è sostenuto da Ascom, ce ne spiega le ragioni il direttore Giancarlo Tonelli. Ancora Eleonora Morari. Noi sosteniamo queste iniziative per il valore economico, ma specialmente per il valore sociale che esse rappresentano. Queste mozzarella prodotte da persone che sono alla ricerca di una nuova opportunità di vita, migliore da quella precedente, naturalmente sono molto importanti. Noi le sottolineiamo quindi con molta attenzione. Ci fa piacere che un ristorante come adesso Pasta abbia condiviso questo progetto, che lo porti avanti proponendolo ai propri clienti. I prodotti tra l'altro sono di grande qualità. Il modo migliore per permettere a queste persone di poter anche una seconda volta provare ad avere una vita in cui l'inserimento all'interno della società è fondamentale. Poi come commercio Ascom naturalmente sosterremo questo progetto anche per quello che riguarda la divulgazione di questi prodotti anche all'interno di altre attività nostre associate. Andiamo a parlare di bambini, della loro formazione per diventare persone di successo e perché no, anche manager, è necessario rafforzare la propria autostima proprio fin da bambini. Di questo si è parlato nell'ambito di un corso dedicato ai manager promosso da OSM, azienda che è specializzata in questo che si è tenuto nella nostra città e che ha ideato un percorso che si fa anche all'interno delle scuole ma che si fa anche con corsi proprio all'interno dell'azienda stessa per rafforzare l'autostima nei ragazzi. A spiegarci tutte le ragioni è il direttore di OSM Paolo Ruggeri. È importante che i bambini vengano aiutati a sviluppare quelle capacità che le porteranno al successo nella vita e anche all'interno del mondo del lavoro. Spesso la scuola si limita a impartire delle nozioni didattiche che sono utilissime per imparare la matematica o per andare meglio in italiano ma che spesso non fanno la differenza nel mondo del lavoro. Dal nostro punto di vista il bambino invece deve acquisire elementi che rafforzano la propria autostima. Come si fa? Beh, innanzitutto è importante che il genitore scopra il bambino mentre fa qualcosa di giusto e rinforzi e dia spesso elogi al figlio, al ragazzo perché dando elogi l'autostima aumenta. Dobbiamo ricordarci che nel futuro i nostri figli non avranno successo in base ai risultati ottenuti nei corsi accademici ma avranno successo quando ci sarà una buona autostima. Anche la creatività è un punto da sviluppare che nella scuola viene un po' schiacciato. Avremo un imprenditore che sta per quotare la sua azienda in borsa e la cosa importante è che lui dice a scuola tutti mi prendevano in giro per le mie idee fuori dalla norma e perché a volte avevo delle idee che erano un po' diverse dagli altri. Ora a distanza di 30 anni lui dà lavoro a 250 persone e sta per quotare la sua azienda in borsa. Noi dobbiamo invece rafforzare la creatività. Chiaramente dentro i sistemi didattici tutti quanti dovrebbero dare maggiore attenzione individuale ai bambini perché sviluppano e mantengono la creatività. È quella che domani farà la differenza. Era la nostra ultima notizia. L'appuntamento con l'informazione torna domani con il Tg delle 13.15. Una buona serata a tutti.